La tua carriera da regbista professionista in Italia ricorda un po' la sfida che gli chef devono affrontare quando trattano il suo loro. Qual è la chiave per raggiungere il successo? La chiave per raggiungere il successo intanto come regbista. Noi siamo arrivati nel mondo del rugby in Italia che nessuno conosceva il nostro sport o poche persone. Forse non abbiamo vinto molte cose, non abbiamo vinto dei titoli, però quello che siamo riusciti a trasferire alle persone è la passione, la voglia di fare squadra, di aggregazione. Uno sport è difficile come il rugby. Noi viviamo in un paese dove esiste il calcio e quindi inevitabilmente la nostra missione era quella di vincere delle partite ma di lasciare un segno alle persone. Infatti vediamo che sono tantissimi bambini che fanno questo sport. Dal punto di vista di un ristorante e vedere questa mission in una maniera diversa probabilmente è la stessa. Cercare di vincere, come dire, cercando di accompagnare le persone a fare un cammino con i piatti degli chef importante e questo cammino parte dalla ricerca, dalla conoscenza del posto, dal rispetto di quelle che sono le tradizioni, dandogli una chiave nuova. Probabilmente il siluro è questo pesce che un po' come i regbisti è muscoloso, fa paura, che però è molto versatile, ha questa carne molto carnosa e dà la possibilità agli chef di poterlo esaltare ancora di più. Sicuramente è importante anche per l'ecosistema perché essendo un predatore, essendo di grandi dimensioni, può distruggere altre specie di, come dire, di pesci che vivono nei laghi e quindi lui avere la supremazia. La possibilità di portarlo in cucina vuol dire cercare di mantenere una bilancia perfetta tra il contesto natura e la proposta che gli chef possono fare.